Tregua a Gaza, il cessato il fuoco regge, dalle 6 di questa mattina le armi tacciono nella striscia dopo 48 giorni di combattimenti ininterrotti. Anche Zbola annuncia lo stop ai lanci di razzi verso Israele. La tregua è una nostra vittoria politica, esulta il capo di Hamas, Anie. Atteso alle 15 il primo scambio tra detenuti palestinesi e ostaggi israeliani. Con il cessato il fuoco nella striscia arrivano aiuti umanitari e rifornimenti. Dal valico di Rafa stanno passando circa 200 camion con generi di prima necessità. Tensione alla frontiera dove molte persone cercano di entrare in Egitto. Decine di spollati hanno cercato invece di tornare al nord per rientrare nelle proprie abitazioni. Respinti dall'esercito israeliano, due morti e diversi feriti. Sarà trasferito domani in Italia Filippo Turetta, il 22enne che ha confessato l'omicidio di Giulia Cecchettine che in Germania è guardato a vista in isolamento. Il ragazzo avrebbe comprato online prima del delitto il nastro adesivo con cui coprì la bocca di Giulia per non farla gridare. Indagini sul mancato intervento dopo la telefonata al 112 di un vicino che aveva visto la prima aggressione. Incontro governo imprenditori questo pomeriggio sulla manovra. Martedì invece l'incontro della Premier con i sindacati previsto inizialmente per oggi. Giornata in cui CGL e Will scioperano nel nord Italia contro la legge di bilancio. Sempre oggi nel giorno del Black Friday protestano in tutta Europa i lavoratori di Amazon che manifestano per i diritti del lavoro. E in condizioni critiche una bambina coltellata ieri nel cuore di Dublino. L'aggressione da parte di un uomo poi arrestato che ha ferito anche altri tre minori all'uscita di una scuola. Dopo l'aggressione attribuita a uno straniero nelle strade della capitale sono scoppiate violente manifestazioni provocate. Secondo la polizia da estremisti di ultradestra 34 le persone arrestate. Dopo l'allarme per il picco di ricoveri per polmonite tra i bambini la Cina fornisce le prime rassicurazioni sulla epidemia che ha colpito soprattutto la capitale Pechino con un boom di ricoveri per febbre alta, tosse e noduli polmonari. Nessun virus sconosciuto fanno sapere le autorità sanitarie. Solo malattie respiratorie dovute ad una combinazione di agenti patogeni noti. Sarà Italia-Serbia la semifinale di Coppa Davis. Sarà l'occasione di una rivincita per Yannick Zinner contro Nole Djokovic che appena domenica scorsa ha battuto l'Azzurro nella finale del Masters a Torino. Dopo la sosta per la Nazionale domani torna la Serie A con le grandi subito in campo. Lazio, Napoli e Milan affrontano Salernitana, Atalanta e Fiorentina aspettando domenica Juventus-Inter. Buongiorno e benvenuti al Telegiornale 7. Dunque da questa mattina nella striscia di Gaza è scattato il cessato il fuoco e tra poco alle ore 15, 13 ostaggi israeliani dovrebbero essere liberati e varcare il valico di Rafa in cambio di 39 detenuti palestinesi. Ma noi ci colleghiamo subito con la nostra inviata in Israele. Silvia Brasca, buongiorno, dove ti trovi? Allora, buongiorno a tutti, io mi trovo all'ospedale pediatrico Schneider di Petah Tikva che ha un passo da Tel Aviv. Qui dovrebbero arrivare, se tutto funzionerà, i bambini insieme alle mame perché non saranno divisi, i bambini presenti nel primo gruppo dei 13 ostaggi e qui è tutto pronto per accoglierli. L'organizzazione è nelle mani dell'esercito israeliano e dei servizi di sicurezza. Tutto è gestito da loro, è pronta, la base è logistica, la consegna dovrebbe arrivare tra un'ora e mezza a valico di Rafa, Hamas li consegnerà alla Croce Rossa internazionale. Ci saranno poi soldatesse preparate proprio per occuparsi di bambini traumatizzati e sono state anche preparate delle cuffie speciali per rendere il trasporto in elicottero il più sereno possibile. La lista dei 13 era stata consegnata già ieri a Israele e i familiari erano stati avvertiti. Ma la sicurezza israeliana diffonderà la loro identità solo quando saranno fisicamente in Israele. Il primo gruppo potrebbe essere uno di ostaggi catturati in uno dei kibbutz attaccati vicino alla striscia di Gaza. E qua negli ospedali l'incontro con i familiari. L'attesa è grande, ricordiamolo, Hamas dal 7 ottobre ha liberato solo quattro donne le ultime un mese fa. Poi solo alcuni video, ritrovamento di corpi di ostaggi intorno e nell'ospedale al Shifa. La liberazione dei 50 ostaggi dovrebbe concludersi in quattro giorni ma la speranza è che si possa allungare sempre che tutto proceda senza incidenti. 180 comunque gli ostaggi che rimarranno a Gaza dove il ministro della difesa Gallant ha ricordato che alla fine di questo scambio comunque la guerra continuerà. Ma l'attesa è grande anche da un'altra parte qua in Israele per lo scambio 1 a 3 con i prigionieri palestinesi detenuti. Dalla lista anche controversa dei 300, i primi 39 che lasceranno nel tardo pomeriggio le carceri solo quando gli ostaggi italiani saranno al sicuro. Dovrebbero essere 24 donne, 15 ragazzi sotto i 18 anni. Dai vari penitenziari sparsi per Israele arrivano tutti in quello più vicino, quello di Offer che è più vicino a Gerusalemme. Poi tramite con la Croce Rossa internazionale verranno accompagnati al checkpoint di Bettania che per entrare in Cisgiordania ma altri saranno invece a Gerusalemme Est. La giurisdizione della sicurezza di Gerusalemme Est è nelle mani della polizia israeliana che ha fatto sapere che non permetterà manifestazioni per le strade, occasione di giubilo. Questo tutto deve avvenire con la massima, con il massimo understatement. E quindi queste, lo ripeto, sono ore d'attesa. La piazza degli ostaggi a Tel Aviv è piena di gente. Ancora tra un'ora e mezza potremmo capire se tutto sta filando. E verso le 5 del pomeriggio, ore italiana, dovrebbero arrivare in Israele. A te Adriana. Grazie, grazie Silvia Brasca. Allora adesso andiamo avanti sempre con Israele per vedere quello che effettivamente sta accadendo sul territorio della striscia di Gaza. Se questo cessate il fuoco in effetti tiene. Insomma sembra proprio di sì anche se ci sono stati degli episodi. Vediamo. Tiene il cessate il fuoco scattato in tutta la striscia stamattina alle 6 ore italiana. A parte un missile partito da Gaza ed intercettato dal sistema Iron Dom e alcuni altri incidenti, le armi finalmente tacciano dopo 48 giorni di combattimenti e bombardamenti. Una tregua che anche Hezbollah intende rispettare sempre che lo faccia pure Israele, non apprende il fuoco sulle loro postazioni nel Libano meridionale. Nella striscia, approfittando del primo momento di calma da tanto tempo, molti sfollati palestinesi vorrebbero rientrare nelle proprie case a Gaza City, ma su questo Israele è inflessibile e ripete ai civili di non farlo perché la guerra è tutt'altro che finita e tra quattro giorni la parola tornerà alle armi. Fonti palestinesi segnalano che alcune persone che tentavano di passare dal sud al nord a un posto di blocco sono state respinte dai soldati dello Stato ebraico che hanno aperto il fuoco. Ci sarebbero due morti e una decina di feriti. E prima che scattasse la tregua, lo stesso esercito israeliano ha proseguito le operazioni contro i miliziani palestinesi, soprattutto nella zona dell'ospedale a Shifa. Da Doha, dove risiede da anni, ha parlato il leader di Hamas. Il cessato il fuoco per noi è una vittoria politica, ottenuta grazie alla resistenza sul terreno. Il nostro nemico ha ucciso donne e bambini e ha distrutto le loro case, ma non è mai riuscito a raggiungere i suoi obiettivi, ha annunciato Ismail Anie. Dal valico di Rafah intanto stanno finalmente affluendo con continuità gli aiuti umanitari destinati alla striscia di Gaza, anche alla zona nord, mentre centinaia di persone si accalcano alla frontiera sia dal lato egiziano che da quello palestinese. Molti sono rimasti bloccati fin dall'inizio del conflitto e vorrebbero tornare a casa. Chi nella striscia, chi in Egitto. Ma il Cairo ha ribadito che in questo momento lascerà passare solo i bambini feriti, gli stranieri e i cittadini con doppio passaporto. Tensioni infine si registrano in Cisgiordania, dove a Gerico un palestinese è stato ucciso durante gli scontri con l'esercito israeliano. L'assassinio di Giulia Cecchettin e il suo omicida, Filippo Turetta, domani sarà consegnato alle autorità italiane e stradato dalla Germania verso il nostro paese. Questo mentre alla ricostruzione dei fatti si aggiungono di ora in ora nuovi elementi agghiaccianti che fanno presupporre anche una premeditazione, dunque aggravano, se questo è possibile, ulteriormente l'impianto accusatorio. E poi c'è sconcerto e rabbia perché si è diffusa già nella giornata di ieri la notizia che un testimone ha telefonato al 112 per denunciare la prima aggressione della ragazza e nessuna vettura, nessun intervento è stato predisposto. Naturalmente sconcerto e anche rabbia. Sarà l'ultima notte di Filippo Turetta nella sua cella in isolamento nel carcere di Halle in Germania, sorvegliato a vista per timore di un gesto estremo. Il presunto omicida di Giulia Cecchettin, accusato di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona, domani mattina verso le ore 12.30 atterrerà all'aeroporto di Venezia con un volo dell'aeronautica militare in arrivo da Francoforte, un viaggio protetto e blindato, visto il clamore mediatico sul caso Turetta e il rischio di problemi di ordine pubblico. Una volta in Italia, al 22enne, verrà notificato l'arresto e il successivo trasferimento nel carcere veneziano, dove resterà in isolamento e sorvegliato. Già lunedì dovrebbe essere interrogato dal GIP. Ai magistrati, Turetta dovrà spiegare il motivo del suo accanimento su Giulia, perché avrebbe sempre dormito in auto durante la sua fuga senza lasciare traccia negli hotel, l'acquisto online effettuato giorni prima del delitto del nastro adesivo per evitare che la vittima gridasse, le ricerche sempre online su kit di sopravvivenza e anche i suoi spostamenti, perché il sabato della scomparsa, prima di andare a prendere a casa l'ex fidanzata, si era recato forse in un sopralluogo nella zona industriale di Fossò, proprio dove c'è stata la seconda aggressione, probabilmente quella fatale. La sua Punto Nera alle ore 17.11 era passata tra questi capannoni. Turetta dovrà chiarire anche questo elemento agli inquirenti che vogliono accertare se c'è stata la premeditazione e accertare l'eventuale aggravante della crudeltà. Ma non è tutto. In queste ore la Procura di Venezia ha acquisito la chiamata al 112 del testimone della lite di sabato. I carabinieri non intervennero dopo la segnalazione di un uomo che vive a 150 metri dalla casa di Giulia. hanno spiegato avevano altri interventi in corso. Erano le 23.18 e il testimone aveva raccontato di aver sentito la richiesta di aiuto disperata di una donna, di aver visto un uomo che la colpiva a calci, di aver ascoltato la frase «così mi fai male» senza riuscire a distinguere la targa dell'auto di Turetta che era fuggita veloce nel buio. Le indagini scattarono solo all'indomani dopo la denuncia del padre di Giulia, smentita dall'arma una seconda chiamata al 112 di un vigilante di uno stabilimento di Fossò al momento della seconda aggressione. A breve dalla Germania il via libera per la consegna della grande Punto Nera di Filippo ai RIS di Parma per le ispezioni scientifiche. La polizia tedesca sostiene che in auto non ci sarebbero tracce di sangue. Il nuovo avvocato di Turetta, Giovanni Caruso, ha confermato l'ipotesi di richiedere una perizia psichiatrica. Il primo dicembre è fissata l'autopsia del corpo di Giulia, poi i funerali a Padova nella Basilica di Santa Giustina. Domani a Roma al corte è un'occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Potrebbe esserci anche Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, che con grandissimo coraggio, nonostante lo strazio del dolore, è riuscita a trovare la forza per denunciare quanto accaduto, affinché ciò non si ripeta più, anche con parole molto forti. Intanto, sì, cominciamo, vediamo questo servizio. Sottoscrivo parola per parola il ricordo che il Presidente Zaia ha fatto di Giulia, ma anche la responsabilità che tutti abbiamo di fronte a un fenomeno che continua a essere intollerabile, incredibile, che ha bisogno di essere combattuto a 360 gradi. Da Verona la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ribadisce l'impegno del Governo e lo fa ricordando al femminicidio brutale di Giulia Cecchettini nella legge con le nuove norme antiviolenza, approvata con voto unanime dal Senato mercoledì. Unico terreno comune, momento di concordia con le opposizioni in Parlamento. Meloni oggi rivendica anche l'inversione ad uso l'utilizzo dei fondi europei, troppo spesso inutilizzati. Non sempre le risorse mancano, spiega la Presidente. A volte ci sono state, ma non si è stati in grado di spenderle. Noi abbiamo pensato di riformare il fondo di coesione in maniera tale, dice, da rendere quei fondi pienamente spendibili. Dall'accordo con l'Albania sui migranti alla legge di bilancio tra maggioranza e minoranza e resta il muro contro muro e proprio a Palazzo Madama, ieri la Premier Meloni, ha ribattuto punto su punto alle critiche delle opposizioni e rivendicato l'azione dell'esecutivo, soprattutto sul fronte economico. Lo ha fatto alla vigilia di un altro sciopero dei sindacati, oggi di nuovo in piazza contro le misure della seconda manovra della destra. A CGL, Will Meloni non ha risparmiato attacchi. Registro, ha detto ieri in aula, un cambio di atteggiamento con un maggiore ricorso alla mobilitazione rispetto al passato. Ma per i due leader sindacali, Landini e Bombardieri, quelle del Governo sono scelte sbagliate che porteranno il Paese a sbattere. Quello di ieri in Senato è stato per la Presidente del Consiglio anche il primo question time da capo del Governo. Giorgia Meloni ha assicurato che verrà rivista la norma infinanziaria che penalizzerebbe il ritiro dei medici e ribadito che non ci saranno ritardi sul PNRR. Nell'intervento in Senato, Giorgia Meloni rivendica il cambio di impostazione sul lavoro, i dati sull'occupazione femminile, di cui si dice molto fiera, il sostegno all'Ucraina e il protocollo d'intesa con Tirana. La Presidente del Consiglio contesta l'immagine che le opposizioni danno del Paese. La Commissione europea prevede per l'anno in corso una crescita superiore a quella della media europea, dice, andando allo sconto frontale con il leader di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi che le rinfaccia le promesse elettorali disattese, a cominciare dal taglio delle accise sulla benzina. Un comiziaccio replica oggi lo stesso Renzi. Oggi è il Black Friday, una giornata utile per fare acquisti a prezzo ridotto, ma anche una giornata importante per i lavoratori di Amazon per protestare, per chiedere alla multinazionale di pagare quanto a loro dovuto. Però sono giorni in cui il tema dello sciopero è molto forte un po' in tutti i settori dell'economia italiana. Notizia di poco fa è che i sindacati di base confermano lo sciopero di 24 ore di lunedì dei mezzi pubblici dopo un confronto al Ministero con il Vicepremiere e Ministro dei Trasporti Matteo Salvini che evidentemente è fallito. Di nuovo in piazza contro una manovra finanziaria che definiscono sbagliata. Oggi è il giorno dello sciopero generale del Nord. Aumentare i salari, cancellare la precarietà, investire sulla sanità e sulla scuola, andare a prendere i soldi dove sono con una vera manovra fiscale, con una vera tassazione delle rendite finanziarie, dice il leader della CGL Landini parlando a Torino. Tutte le categorie private sono in corteo anche a Milano. I nostri salari sono ormai colpiti per il 17% in due anni dall'inflazione e quindi siamo con gli altri per rivendicare in particolare il tema salariale. Il grande problema della grande distribuzione è il mancato rinnovo dei contratti nazionali tant'è che è già stato proclamato lo sciopero per il 22 di dicembre. Dal governo per ora nessuna risposta, dicono CGL e UIL che hanno indetto lo sciopero senza la CISL. Con il governo è scontro aperto. L'iniziale invito dell'esecutivo a un incontro oggi in piena mobilitazione è stato declinato e così le parti si ritroveranno martedì. Convocare le organizzazioni sindacali mentre eravamo in piazza mi era sembrato uno scivolone, una mancanza di rispetto per chi oggi è qui, ha affermato il segretario della UIL bombardieri dal corteo di Brescia. Intanto al Ministero dei Trasporti è iniziato l'incontro con i sindacati di base in vista dello sciopero dei trasporti di lunedì. Oggi Black Friday è anche il giorno della mobilitazione dei lavoratori di Amazon. A Milano ci sono i driver di aziende che lavorano in appalto per il colosso della distribuzione, denunciano condizioni di lavoro pesanti e lo stipendio non basta. Ieri per esempio avevo 120 stop fermate con 260 colli e questa cosa per me è inaccettabile, lavoriamo anche al buio e questa cosa ripeto è anche molto rischiosa. Ci sono aziende che fanno pagare le branchigie anche 700-750 euro, abbiamo il 3% di personale femminile all'interno della filiera e questo dimostra comunque ancora una volta una discriminazione verso il genere femminile. I lavoratori di Amazon sono in sciopero in 30 paesi, lo slogan è Make Amazon Pay, chiedere al gruppo di restituire un po' di quello che è in cassa con salari più equi ma anche con impegni per la sostenibilità e pagando le tasse nei paesi in cui opera. In Europa la più grande mobilitazione è a Coventry, nel Regno Unito dove si chiede il rinnovo del contratto. In tutte le piazze del nord questa mattina un minuto di rumore contro la violenza sulle donne, un anticipo della grande mobilitazione di domani. Ieri in Irlanda circa 200 simpatizzanti di estrema destra hanno messo a ferro e fuoco Dublino. Questo poco dopo che si è diffusa la notizia che sono stati accoltellati tre bambini ed una insegnante all'uscita di una scuola e che il presunto colpevole avrebbe origini algerine. Una notizia che peraltro non è neanche confermata. L'Irlanda sotto shock per la straordinaria esplosione di violenza che ha gettato Dublino nel caos la scorsa notte. Tutto comincia poco dopo l'ora di pranzo quando un uomo armato di coltello assale insegnanti e bambini che uscivano da una scuola materna nel centro della capitale. Cinque persone restano ferite, una donna di 30 anni e una bambina di 5 in modo grave. L'assalitore viene fermato ma anche lui viene ricoverato e piantonato in ospedale per essersi inferto almeno dalle prime ricostruzioni anche lui delle ferite. Ma è un attimo che sui social si diffonde la notizia che l'assalitore sarebbe di origini algerine. Comincia il tamtam fra i gruppi di estrema destra in centinaia scendono in piazza. Inizia una guerriglia violentissima, i negozi presi d'assalto, le automobili incendiate. Interviene la polizia che per tutta la notte deve fronteggiare queste frange di estremisti nazionalisti che sventolano bandiere con su scritto La vita degli irlandesi conta. Protestano contro gli stranieri e le politiche migratorie in Irlanda. Secondo loro troppo accoglienti. Decine di poliziotti rimangono contusi. Uno in modo grave, 34 gli arresti, circolazione bloccata, una città messa a ferro e fuoco. Dublino si sveglia a tonita. Il premier Leo Varadkar parla alla nazione. I disordini di ieri sera attribuiti a circa 200 simpatizzanti dell'estrema destra nazionalista decisi a strumentalizzare in chiave anti-islamica e anti-immigrati l'accoltellamento di tre bambini di un insegnante dai contorni non ancora chiariti, così come il movente. Sono stati una vergogna per l'Irlanda, dice. Rivendica però il carattere inclusivo del paese. Lui a capo di un governo di centrodestra, primo figlio di padre immigrato divenuto premier. La polizia di Dublino intanto dichiara di non aver mai visto disordini pubblici come questi. C'è stata una straordinaria esplosione di violenze, ma è chiaro che le persone sono state radicalizzate attraverso i social media. Alcuni di loro ci sono ben noti, dice. Ed effettivamente, negli ultimi anni, in un paese da sempre accogliente, la crisi dei prezzi del mercato degli immobili, l'aumento della delinquenza e dei furti sembrano aver fatto emergere numerosi movimenti antimigrati e fatto esplodere sentimenti xenofobi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto immediati riscontri a Pechino sull'ondata di polmoniti pediatriche che sta interessando da qualche giorno il paese, in particolare la capitale, Pechino. Sono passati ormai quattro anni dall'inizio del Covid a Wuhan e nessuno vuole più commettere altri errori. Sembrano vecchie immagini dell'epoca Covid, viste riviste, invece sono attualissime. Appena girate in uno dei maggiori ospedali pediatrici di Pechino, dove si sono registrate 7000 presenze al giorno di bambini malati di polmoniti non diagnosticate, con febbre alta, noduli polmonari, a volte tosse, un picco inaspettato di ricoveri e visite ambulatoriali. Vediamo ancora una volta genitori preoccupati, piccoli che tossiscono, attaccati ad una flebbo, in attesa di essere visitati. La Cina è alle prese con una nuova ondata di malattie respiratorie che preoccupa il resto del mondo, ma non il governo cinese. Le autorità sanitarie di Pechino spiegano così il fenomeno all'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha chiesto delucidazioni. Si tratta di un aumento generale delle malattie respiratorie dovuto ad una combinazione di agenti patogeni noti, nessun virus sconosciuto, un aumento di casi avvenuto in anticipo rispetto al normale andamento stagionale a causa della revoca delle restrizioni Covid, come accaduto già in altri paesi. In effetti anche in Italia l'anno scorso c'è stato un aumento anomalo del virus sinciziale che colpisce bambini piccoli perché con le misure anti-Covid né loro né le mamme erano venute in contatto con i virus e non avevano prodotto gli anticorpi. Si tratta solo di questo? Le ipotesi sono ovviamente plurime. Si tratta di manifestazioni di polmoniti non così usuali che potrebbero essere determinate da micoplasma, un batterio particolare che può determinare queste patologie, può essere legata a una concentrazione di casi, potrebbe essere una nuova variante di Covid, potrebbe essere un agente X. Secondo gli esperti dalla Cina arrivano notizie frammentari su quanto sta accadendo e serve una comunicazione più capillare. Deve esserci anche qui una forza delle istituzioni per far sì che ci sia la sicurezza che la Cina ci racconti esattamente ciò che sta succedendo, perché rimangono ancora oggi dei dubbi sul fatto che per quanto riguarda il Covid ci sia stato un ritardo nella comunicazione o nella trasparenza complessiva. In questo momento non c'è alcun pericolo per l'Occidente, dice Pregliasco, occorre però continuare a monitorare i virus e sorvegliare eventuali nuove patologie. Ora facciamo un passo indietro nella storia, perché è passato circa mezzo secolo dall'uccisione di Pierpaolo Pasolini all'idroscalo di Ostia, in circostanze che non sono mai state davvero accertate. Le indagini continuano e ora con le nuove tecnologie scientifiche si spera di poter trovare qualche certezza. A 48 anni di distanza la morte di Pierpaolo Pasolini resta un mistero. La cosa certa è che non c'era solo Pino Pelosi quella notte del 2 novembre 1975 all'idroscalo di Ostia. I RIS dei carabinieri nel 2010 hanno ritrovato tre DNA appartenenti a persone diverse, di cui però ancora non si conosce l'identità e resteranno ignoti, senza nome, perché la Procura di Roma ha respinto la richiesta di riapertura indagini fatta nel marzo scorso dall'avvocato Stefano Maccioni. Proprio questo noi chiedevamo, che venissero accertate a chi appartenessero questi tre DNA. Questo non è stato fatto. Abbiamo delle certezze. Una di queste certezze è che per Paolo Pasolini non venne uccise esclusivamente da Giuseppe Pelosi, quindi erano presenti altre persone sulla scena del crimine, questo ce lo dicono per l'appunto quelle tre tracce di DNA. Secondo la Procura, gli elementi valutati alla luce delle imponenti attività svolte nel vecchio procedimento non sono idonei a consentire l'attivazione della procedura di riapertura delle indagini, perché elementi eterogenei e generici. Ma dal 2015, anno in cui sono terminate le vecchie indagini, ci sono state delle novità, come la dichiarazione fatta da Maurizio Abbatino, uno dei boss della banda della Magliana. Maurizio Abbatino, sentito dalla Commissione Parlamentare Antimafia nel settembre, ha detto che partecipò ad un furto su commissione delle pizze di un film, l'ultimo film di Pierpaolo Pasolini, salò le 120 giornate di Sodoma. Quello poteva essere il pretesto con il quale Pierpaolo Pasolini, e noi lo sappiamo quasi per certo, venne attirato all'idroscallo di Ostia per poi successivamente essere ucciso. Per l'omicidio del grande scrittore, poeta e regista, fu condannato Pino Pelosi, un ragazzo di vita all'epoca diciassettenne. Eppure anche la sentenza di primo grado, nel 1976, affermava che Pelosi non era l'unico responsabile della morte di Pasolini, ma aveva agito con ignoti, che tali sono rimasti. In Italia arrivano sempre più turisti, ma non sempre le città d'arte sono in grado di accoglierli. E' in quest'ottica che a Venezia, una città meravigliosa quanto fragile, sarà reso operativo il ticket d'ingresso, non tanto, dice il sindaco, per fare cassa, quanto per ridurre proprio il numero delle persone che arrivano. Ci siamo quasi. Il tanto annunciato ticket per visitare Venezia diventerà realtà dalla prossima primavera. Per adesso sono 29 giorni in tutto, quelli in cui storicamente è maggiore l'afflusso del turismo mordi e fuggi, in cui chi vuole passare una giornata nella città lagunare dovrà pagare. 5 euro il contributo d'accesso dalle 8.30 alle 16. Questo primo blocco va dal 25 aprile al 5 maggio, poi tutti i fine settimana di giugno e 2 a luglio. Basta registrarsi al portale dedicato del comune, prenotare il giorno, versare il ticket e con il QR code sarà consentito l'ingresso attraverso 7 varchi alla città antica, mentre sarà libero l'accesso al Lido di Venezia e alle isole minori. Esentati dal pagamento del ticket sono i ragazzi sotto i 14 anni, i residenti, i lavoratori anche pendolari, gli studenti di scuole e università con sede nel centro storico o nelle isole minori. È una sperimentazione sulla prenotabilità di Venezia, ha detto il sindaco Luigi Brugnaro, non ci interessa fare cassa ma alleggerire il carico giornaliero su una città così delicata e importante per l'industria turistica italiana. Patrimonio mondiale Unesco, la più visitata al mondo con oltre 20 milioni di turisti all'anno. L'obiettivo è migliorare la vivibilità della città di chi ci abita e di chi ci lavora. Tutte le persone che possono evitare di venire a Venezia in giornata, cioè voglio venire a Venezia la domenica, porto la famiglia... Noi diciamo alcuni giorni sono bollino nero, cioè la città è già abbastanza piena, per cui se puoi evitare di venire in quei giorni ci fai un piacere, vai a vedere altre situazioni attorno a Venezia. Se invece vieni in albergo, il problema non c'è perché hai già una prenotabilità, per cui dall'albergo ti arriverà un QR code, un sistema identificativo che sarà quello che ti consenterà ad entrare a Venezia. Ci sono 350 telecamere puntate sul centro storico e gestite dalla control room della polizia locale per monitorare il flusso dei visitatori, ma qui arrivano anche le informazioni dai sensori contapersone, dalle celle telefoniche, dalle emissioni dei biglietti dei musei e dalle timbrature presso pontili ed imbarcaderi. Non c'è una soglia limite di afflusso dei visitatori che gli albergatori accolgono ovviamente a braccia aperte, tanto da vedere di buon occhio questo provvedimento importante per controllare le reali presenze in laguna. In Italia da molti anni la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti è oggetto, motivo di accese discussioni, anche se in tempi più recenti studi scientifici comprovati hanno messo l'accento sugli effetti molto nefasti di tutte le droghe, ma anche dell'alcol sul cervello dei più giovani. Ora uno spot voluto dal governo rilancia il tema. È in onda da pochi giorni e già fa discutere il nuovo spot del governo contro la droga. Ti stai facendo una canna? E beh? Guarda che ti fa male. Poi è un attimo che passi a altre droghe. La frase è un attimo che passi a altre droghe riferita all'amico che si fa una canna riapre una vecchia disputa perché sembra suggerire un automatismo tra il consumo di cannabis e quello delle droghe pesanti. È una comunicazione un po' ambigua, può essere migliorata perché in realtà si dovrebbe dire potrebbe un condizionale perché è una probabilità. C'è una probabilità ma non è una certezza. Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'istituto Mario Negri, si occupa di farmacologia dalla metà del secolo scorso quando si iniziò a discutere della teoria del passaggio secondo cui l'uso della cannabis predisporrebbe ad altre dipendenze. Nessun automatismo ci spiega ma esistono studi che provano un rischio più elevato di effetti a lungo termine per i giovanissimi. Il cervello di un adolescente è ancora in fase di crescita quindi l'effetto della droga è molto diverso rispetto all'adulto. E poi conta molto la concentrazione del principio attivo. Quando parliamo di cannabis non parliamo di una sola cosa parliamo di cose molto diverse perché ci sono prodotti di cannabis che contengono l'1% al massimo dei tetraidro cannabinolo ma ci sono anche delle varietà di cannabis che ne contengono più del 20%. Secondo l'ultima relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze il 24% dei giovani tra 15 e 19 anni riferisce di aver rifatto uso di cannabis nel 2022. dati in ascesa dovuti anche a una diminuita percezione del rischio perché l'uso terapeutico sta inducendo la convinzione falsa che la cannabis sia un farmaco ma è una droga anche se non la più diffusa. Non parliamo di alcol e non parliamo di tabacco che sono due droghe molto importanti che circolano molto di più delle droghe a cui facciamo riferimento attualmente. Eh già ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità al ritorno vedremo le notizie sportive se ci sono anche degli aggiornamenti a tra poco. Eccoci qui allora ripartiamo dal tennis con la Coppa Davis domani gli azzurri guidati da Yannick Sinner affrontano la Serbia di Djokovic in palio c'è la finale. Di nuovo di fronte per la terza volta in dieci giorni il giocatore più forte al mondo è l'altro che studia per diventare il numero uno Nole Djokovic contro Yannick Sinner. La semifinale tra Serbia e Italia dipenderà da come finirà il loro incontro e anche dal doppio che entrambi naturalmente giocheranno. Un altro sciola definito il serbo per me è una maniera per crescere ha detto l'italiano che anche ieri è stato perfetto in campo e fuori. È stata la sua consacrazione a soli 22 anni e il leader che indica la scia ai compagni lo fa senza mai alzare la voce con la tranquillità e con l'aria di divertirsi sempre come un bambino che scarta un regalo. Sinner è davvero così. È il compagno a cui aggrapparsi nel momento del bisogno la bussola per non perdersi nella tempesta è inutile girarsi intorno se l'Italia ha battuto l'Olanda conquistando la semifinale e lo deve a lui. È entrato in campo con le spaglie al muro perché dopo la sconfitta dei Arnaldi nel primo singolare non c'era altra possibilità che battere Grispo. Detto fatto successo in due set il primo utilizzato per ritrovare il suo tennis ma non è finita qui. Il tempo di una doccia è di nuovo in campo con l'amico Sonego nel doppio il capitano Velandri non ha dovuto fare troppi ragionamenti ha scelto i due anche se nessuno Nessonego e Sinner può definirsi uno specialista del giocare in coppia. Non importa perché le affinità corrono più veloce di tutto mai si era visto Sinner sorridere così tanto durante un match ha cercato spesso il pugno del compagno dopo il punto ottenuto hanno vinto in due set senza affanni. È facile giocare con Jannik io con le persone umili vado d'accordo e lui lo è il commento del torinese questa squadra è come una famiglia ha aggiunto l'alto attesino una squadra che non sarà forte come quell'altra che vinse la nostra ultima Davis nel 76 lì c'erano Parata Bertolucci Barazzuti Zuccarelli è un'altra storia ma per la prima volta dopo tanti anni il tennis italiano può esibire una squadra forte costruita sull'amicizia tra chi ne fa parte una squadra vera e pratica come il suo leader. Ora il calcio perché domani dopo la pausa per la nazionale riparte la Serie A in attesa del big match domenicale tra Juventus e Inter dunque attesa per le prove del Milan sempre domani opposto alla Fiorentina e del Napoli guidato dal nuovo tecnico Mazzari Sarà un sabato a tinte forti e non solo per i verdetti del campionato risvolti umani che entrano di diritto nelle vicende di un torneo che fino alla fine dell'anno non avrà un momento di pausa il bis di Mazzari a Napoli è una grande affabulazione ma secondo una parte della critica anche un rischio notevole non solo perché sono passati dieci anni ma anche rileggendo le ultime esperienze del tecnico con Watford Torino e Cagliari che hanno lasciato diverse perplessità nella giornata in cui si affrontano tra loro le prime sedi della classifica il nuovo allenatore deve raccogliere i coci della disvalta con l'Empoli e al debutto affronta in trasferta l'ostica Atalanta che talona il campione in Italia ad un solo punto di distanza insieme alla Fiorentina è solo l'inizio di una striscia con un elevato quoziente di difficoltà perché a seguire ci saranno Real Madrid Champions e poi Inter e Juventus ad incoraggiare la fiducia c'è il ritorno di Osimène che in partenza si limita la panchina e il centro avanti sarà Raspadori ricomincia la 3 nel senso di 4-3-3 con lo schieramento della difesa inedito per i canoni tattici del nuovo tecnico il sabato italiano che parte dal 62enne Mazzarri per uno strano gioco del destino arriva all'opposto dei 15 anni 8 mesi e 15 giorni di Francesco Camarda uomo copertina del Milan in queste ore un predestinato secondo i ben informati il ragazzo milanese e milanista è proiettato in una realtà supersonica per la moria di attaccanti di cui è vittima il diavolo contro la Fiorentina erano già annunciate le assenze di Giroux qualificato e Leao infortunato la brutta sorpresa è arrivata ieri con il problema muscolare riportato da Okafor con la nazionale svizzera una maledizione per Pioli che deve invertire la rotta dopo due pareggi e due sconfitte ed è costretto a ricorrere all'oggetto misterioso Jovic ed ecco la convocazione di Camarda per il quale è servita una deroga della Fede del Calcio in quanto non ancora si ricenne le cronache della Youth League ci hanno consegnato il suo capolavoro contro il Paris Saint Germain proprio nello stesso giorno in cui Leao segnava i francesi in Champions nel 2022 regalò lo scudetto al Milan under 15 in finale proprio con la Fiorentina corsi e ricorsi in questi casi l'eccesso di rivismo è dietro l'angolo e allora meglio a tenersi ai fatti Camarda gioca nella primavera sotto età e vive per il gol ne ha segnati più di 500 per un eventuale debutto rosso-nero da minorenne strizza l'occhio al grandissimo Rivera e toccando l'erba di San Siro diventerebbe il più giovane nella storia della Serie A e questo è l'ultimo fine settimana dell'anno per la Formula 1 e per la MotoGP a Valencia Francesco Bagnaia campione del mondo in carica si presenta con un vantaggio di 21 punti sul rivale spagnolo Martin al piemontese della squadra ufficiale Ducati basterà conquistare 4 ulteriori punti sul rivale nella gara sprint di domani per confermare il titolo iridato ultimo appuntamento anche per la Formula 1 sul circuito di Abu Dhabi con i titoli già da tempo conquistati da Verstappen e dalla sua Red Bull resta ancora da segnare il secondo posto tra i costruttori Mercedes e Ferrari sono separate da quattro lunghezze nelle prime libere miglior tempo per la Mercedes di Russell settima la prima Ferrari con Sainz sarà scarcerato il 5 gennaio prossimo in regime di libertà condizionale Oscar Pistorius l'ex campione paralimpico di atletica leggera che nel 2016 era stato condannato a 13 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Riva Stemkamp Pistorius oggi 37enne aveva ucciso la compagna sparandole attraverso la porta del bagno nel 2013 sostenendo però in aula di averla scambiata per un ladro Pistorius dovrà comunque obbligatoriamente seguire due diverse terapie psicologiche una per la gestione della rabbia e l'altra più specifica sulla violenza contro le donne a proposito di femminicidi si conclude così il nostro telegiornale l'informazione continua con Tagadà grazie ancora per essere stati con noi arrivederci a domani No 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 No